ciao a tutti bentornati sul mio canale quest'oggi andremo a vedere come automatizzare due faucet in modo semplice e gratuito in realtà tramite questo bot perché il bot è un programma che praticamente automatizza tramite questo bot potremmo usufruire solo di questi due faucet ma bensì di moltissimi altri però in questo video andrò nello specifico a spiegare il funzionamento di questi due. Allora innanzitutto vi raccomando di seguire esattamente la procedura che vi faccio vedere in questo momento. Allora innanzitutto i faucet sono uno bitverts e l'altro doge coins for free troverete i link in descrizione dovrete fare l'iscrizione appunto ai due siti io ovviamente sono già iscritto quindi effettuo il login quindi mettono mutente password c'è da compilare il capsca perfetto possiamo entrare praticamente bitverts è un sito è un pay to click dove potremo appunto cliccare delle dei link che ci portano a delle pagine piuttosto che dei video da visualizzare mentre invece doge coin for free di cui facciamo la login in questo momento è semplicemente un faucet nel quale tireremo i dadi e in base al punteggio prenderemo un quantitativo di doge allora qui una volta registrati per fare il login dovremo mettere username e password e poi risolvere il capsca che in questo caso ci dice di toccare la figura femminile quindi tocchiamo la figura femminile ed effettuiamo il login molto bene allora una volta effettuata l'iscrizione dovrete cliccare sul sul terzo link che troverete nella descrizione nel video questo link vi permetterà di scaricare il bot il bot una volta scaricato e installato praticamente vi appare così adesso si apre un attimo solo come vedete è già impostato su doge coins for free non faremo altro che inserire nome utente e password e cliccare su questo pulsantino per effettuare appunto il login perfetto come vedete sta risolvendo in automatico il capsca e ci dice che siamo stati loggati con successo come vedete il mio saldo attuale è di 7,69 doge doge coin for free ha praticamente un minimo di prelievo di 8 doge quindi io ci sono quasi arrivato e come funziona praticamente bisogna solamente loggarsi e ogni 15 minuti fa in automatico il lancio dei dadi e ci verranno accreditati delle cifre in base appunto al punteggio che avremo fatto in questo caso ho fatto 2528 un punteggio bassissimo e quindi ci viene dato il minimo però in base al punteggio praticamente accumuleremo più o meno doge basta per quanto riguarda doge coin for free abbiamo già finito andiamo in questo momento a vedere come funziona bitverse invece quindi clicchiamo sulla etichetta di bitverse inseriamo il nome utente e la password e clicchiamo il pulsantino potrà capitare ogni tanto che non ci facciano entrare basta semplicemente riscrivere il nome utente e la password e poi rieffettuare l'ingresso allora come vedete siamo entrati in bitverse ci dice che ha trovato 13 annunci da visualizzare i primi due annunci sono andati in errore il terzo invece ci ha accreditato 32 satoshi di ethereum ho già due accrediti in pochi secondi tre accrediti in pochi secondi come vedete in man mano che passano gli annunci in automatico ci va a caricare i satoshi sul nostro saldo che vedete appunto qua io cosa ho fatto siccome bitverse prevede sul sito un exchange interno io ho convertito tutto ciò che avevo accumulato in litecoin in modo tale che appunto il prelievo minimo di litecoin è 0,002 se non erro in modo tale che appunto avrò più facilità nell'effettuare il ritiro come vedete sta continuando ad accreditarmi satoshi in questo caso di litecoin fa tutto da solo eh solo in alcune occasioni ci verrà chiesto di inserire un codice ma una volta ogni tanto quindi è tutto automatico praticamente come vedete addirittura sta sorpassando il numero di annunci erano 13 ne ha fatti 17 sta guardando anche il video tutto in automatico vedete ci ha accreditato anche i soldi i satoshi per quanto riguarda il video visto una volta finita questa operazione passeranno una ventina di minuti per far ricaricare le pubblicità sul sito di bitverse e allora in questo caso siccome io oggi ne ho visualizzati parecchi di link ne sono usciti pochi però spesso accade che ce ne siano da vedere anche più di 300 e fa tutto in automatico quindi ragazzi mi raccomando è un'occasione da non perdere perché appunto automatizzare i faucet è una cosa davvero fantastica perché comunque ci evitiamo un sacco di sbattimenti e continuiamo a guadagnare in automatico dei satoshi di varie monete in questo caso sono 4 su bitverse allora per quanto riguarda questo video è tutto abbiamo analizzato dogecoin for free e bitverse nel prossimo video vi farò vedere come fare per andare a guadagnare con lo stesso procedimento anche su altri tantissimi altri faucet quindi mi raccomando non perdetevi il prossimo video iscrivetevi a dogecoin for free e bitverse tramite i link che trovate nella descrizione del video scaricate questo bot tramite il link che trovate nella descrizione del video e buon guadagno a tutti mi raccomando vi ricordo anche l'iscrizione al canale perché è fondamentale per rimanere in aggiornamento con tutte le modalità di guadagno che vi propongo e lasciate un like se il video l'avete trovato utile vi saluto vi mando un abbraccio e mi raccomando non perdetevi i prossimi video ciao